Al Krusty Krab tu trovi in barba ad ogni dieta dal buon Krabby Patty A fino al Krabby Patty Z con questa canzoncina io ti voglio ricordare che basterà un soldino per venire qui a mangiare C'è il doppio Krabby Patty o anche triplo se tu vuoi c'è quello con dentro niente costa poco non riesco in poi con il berretto patty calvo non sembrerai e i Krabby portaloni a tutti quanti mostrerai compra, compra, compra i Krabby Patty compra, compra, compra i Krabby Patty pesa per lo scozzese, ottimo e colorato ma Krabby Patty sotto ghiaccio al gusto rinnovato invece i surgelati tu lo puoi trovare te lo scaldi a casa poi lo mangi senza cucinare compra i Krabby Patty surgelati compra i Krabby Patty surgelati corri a comprare i Krabby Patty surgelati spendi poi i soldini perché li voglio tutti e li voglio sovita grazie a tutti grazie a tutti